Utili nelle cose più piccole, più semplici, più delicate. Utili per le piccole e grandi realtà imprenditoriali. Utili ogni giorno per mandare avanti il lavoro di milioni di italiani. Utili per sviluppare nuovi progetti di successo. Utili per dare consulenza strategica alle imprese, per crescere, per diventare internazionali. Utili perché siamo preparati, aggiornati, assicurati. Siamo 120.000 professionisti, non soltanto consulenti fiscali, ma commercialisti. Siamo utili ai cittadini, alle imprese, alle istituzioni, alla comunità. Siamo 120.000 volte utili, anche quando non ve ne accorgete. Per questo siamo utili al Paese. I commercialisti, orgogliosi di esserlo.